Buona domenica a tutti, eccoci nuovamente insieme per importanti chiarimenti sia per l'assegno di inclusione ADI e i disastri dell'Istituto IMPES che per il bonus SFL, supporto per la formazione di lavoro da 350 euro, andando a rispondere a tutte quelle persone che si ritrovano con pagamento interrotto, domanda terminata. Poi parleremo dei pagamenti che inizieranno da domani 30 settembre, parleremo di pensioni, ma come sempre mettete un bel like per premiare la tempestività e se ancora non siete iscritti alla pagina e al canale, fatelo, è utile e serve soprattutto a voi. Bene amici, partiamo subito dal bonus SFL da 350 euro e rispondiamo alle persone che mi chiedono, ma con domanda accolta e pagamento interrotto si prende il pagamento? No, nel modo più assoluto non si riceve il pagamento, esce interrotto per il semplice fatto. O sono finiti i corsi e quindi bisogna attivare nuovi corsi o magari avete preso la prima mensilità perché vi siete iscritti al collocamento, al CPI, avete attivato le politiche sociali, ma i corsi non sono ancora partiti. Quindi o dovete attivare nuovi corsi perché quelli che avevate precedentemente sono finiti, oppure non avete ancora iniziato i corsi e si è preso solo il primo pagamento. Mentre agli altri che hanno la domanda terminata significa che si sono raggiunte le 12 mensilità del bonus SFL e come sapete la durata è di 12 mensilità. Parliamo ancora di bonus SFL perché i pagamenti sono iniziati in data 27 per chi ha come pagamento bonifico, bancario o postale, mentre per gli altri che aspettano il mandato ovviamente ci sono sempre un paio di giorni in più per ricevere detto pagamento. Poi passiamo al discorso di assegno di inclusione ADI, i disastri che ha combinato INPS, già vi ho indicato anche ieri, potete recuperare il video, che arriveranno lavorazioni straordinarie e si sistemerà il tutto perché i sistemi di INPS hanno creato un errore imperdonabile, non riconoscendo l'invalidità, quindi bloccando la domanda, mettendo la domanda nello stato decaduta, addirittura a molti non ha pagato i carichi di cura, ma ripeto potete recuperare il video come già indicato pure ieri. INPS ha riconosciuto l'errore a breve, ci saranno lavorazioni straordinarie. Passiamo ai pagamenti che ripartiranno domani 30 settembre, come già sapete disoccupazione della Naspi, ancora ricariche carta acquista o social card da 80 euro, ancora pagamenti SFL, ancora ricariche ADI, ancora assegno unico universale, ancora pagamenti per il bonus IRPEF, ex bonus Renzi da 100 euro o trattamento integrativo sulla Naspi. E poi ci spostiamo al primo di ottobre, come ben sapete inizieranno i pagamenti per le pensioni di ottobre e ancora vi ricordo che sono disponibili dal primo percorrentisti bancari e postali, mentre per coloro che effettuano il ritiro in contanti allo sportello ci sarà il classico calendario in ordine alfabetico. Questo era l'ultimo avviso, grazie di cuore a tutti, mi raccomando mettete un bel like, iscrivetevi alla pagina o al canale, ma soprattutto condividete e facciamo girare la voce. Grazie di cuore a tutti, buona domenica.